E' necessario un cambio di rotta nelle politiche sull'immigrazione. Sentiamo di che genere di cambiamenti vorrebbe che si facesse carico il Parlamento in questa intervista di Matteo Parlato. Ci aspettiamo un cambiamento di rotta nella normativa e nelle politiche in generale dall'Italia, in primo luogo, perché il Papa è venuto a Lampedusa e dell'Europa. In Italia va subito cambiato il sistema di accoglienza, non più basato sui megacentri che o si chiamano Cio o si chiamano Cara, sono delle cose insostenibili per chi ci mettiamo dentro e per le città dove li collochiamo. Va abolito il reato di immigrazione clandestina, una cosa ignobile. Vanno accorciati i tempi di detenzione dentro i CIE, un anno e mezzo è una cosa allucinante. Molte persone dai CIE poi vengono portate nelle carceri che già sono in stato di gravissima sofferenza. Allora, in questo momento si è riaperto il flusso con il buon tempo dall'Africa verso qui, verso Lampedusa, verso la Sicilia. Che tempi volete per queste risposte? Noi, io credo che il Papa ha parlato soprattutto alle coscienze, per cui ha detto cose che vanno sedimentate, che vanno sedimentate prima nella coscienza di ciascuno di noi e quindi anche in quella dei politici. però penso che questo sia un tema che deve stare all'inizio dell'agenda politica perché poi ha molto a che fare anche con la crisi economica nostra.